Buonasera cari telespettatori, benvenuti all'argomento della settimana. Dedichiamo interamente questa puntata alla mostra di visionismo, la rivoluzione della luce che resterà visibile nella splendida a cornice del castello Visconte Osforzesco di Novara fino al 5 aprile 2020. Racconteremo in retroscena dell'organizzazione gli ultimi dettagli delle otto sezioni tematiche per questa mostra di grande respiro. Iniziamo con una parte un po' più istituzionale, allora saluto i miei primi ospiti, il sindaco di Novara Alessandro Canelli e il presidente dell'associazione Mezze per Corsi d'Arte Paolo Tacchini. Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti, siamo qui proprio per raccontare dell'associazione e dell'impegno in vista proprio di questa mostra che ha davvero tanto da raccontare. Un percorso davvero ricco e affascinante, però appunto creiamo un po' la carta d'identità di questa associazione e di chi lavora con quali obiettivi sul territorio. L'associazione Mezze per Corsi d'Arte nasce circa due anni fa quando un gruppo di amici, di appassionati di pittura italiana dell'Ottocento decise di unire le forze in qualche modo, di mettere le proprie competenze maturate in ambiti diversi al servizio di una causa comune. Proprio la passione per la pittura di questo periodo con lo scopo di promuoverla, divulgarla e farla conoscere al grande pubblico. Perché si tratta di un periodo molto affascinante, noi pensiamo forse proprio al periodo magico dell'arte figurativa, che in realtà pur incontrando molto spesso il gusto degli spettatori è meno conosciuta di quello che dovrebbe. E quindi quando abbiamo cominciato a pensare a come attivarci per promuovere combinazione, era il periodo in cui a Novara c'era questo nuovo spazio espositivo che rappresentava per noi un'occasione molto violta, devo dire. Tra l'altro la città ha anche una vocazione a quel periodo, perché è la città dove svetta la cupola antonegliana, è stata protagonista degli eventi risorgimentali, quindi sembrava proprio la sede adatta per partire. Quindi grazie a un comune amico organizziamo un incontro con il sindaco Alessandro Antonelli, che è Alessandro Canelli, è un lapsus ottocentesco. Con Alessandro ci conoscemmo, all'epoca non ci conoscevamo, e gli raccontammo della nostra idea di organizzare una grande mostra sulla pittura dell'Ottocento al castello di Novara. E tutto nacque così, da quell'incontro, in una serata novembrina di tre anni fa, direi ormai. Beh, il lapsus è un po' la passione anche, questo viaggio nella storia e nell'arte, che permette di crescere ai cittadini e al territorio intero. Sindaco, il castello ha questa vocazione? Sì, sta cominciando ad averla. Noi abbiamo organizzato una prima mostra, diciamo così, inaugurale, con le stanze segrete di Vittorio Sgarbi, alle quali abbiamo dato seguito alla mostra dell'anno scorso, organizzata dall'associazione Mez, dai Macchiaioli a Segantini, che ha avuto un successo di pubblico, a mio modo di vedere, strepitoso, perché sono arrivate oltre 32 mila persone, ma la maggior parte delle quali sono arrivate da fuori città. E questo è il grande valore aggiunto che ha avuto questa mostra, oltre ovviamente l'indubbia qualità tecnico-artistica che ha potuto offrire alla cultura novarese. Il castello è il luogo giusto, perché il castello ovviamente è stato pensato e realizzato per poter creare e realizzare mostre temporanee di questo genere. è anche il tema sul quale abbiamo voluto puntare sia l'anno scorso sia quest'anno, perché il divisionismo fa parte comunque di un periodo storico che va dalla fine dell'Ottocento a cavallo col Novecento, nel quale la nostra città, l'ha già detto, l'ha già anticipato molto bene, Tacchini è sbocciata, è fiorita, sia da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista sociale, economico, di sviluppo economico, sono nati istituti finanziari, è cresciuta e si è consolidata da un punto di vista dell'offerta dell'istruzione, dell'educazione. Insomma, la città da un punto di vista, diciamo così, generale, si è consolidata ed è diventata una città veramente di livello proprio in quel periodo storico. Anche da un punto di vista monumentale, ci sono, l'ha già detto, oltre alla cupola che ovviamente è il simbolo della nostra città, ci sono tantissime altre opere architettoniche che hanno caratterizzato quell'epoca storica. Quindi sì, diciamo così, c'era una buona sinergia, sia da un punto di vista tecnico-artistico, sia da un punto di vista storico, per poter organizzare una mostra di questo genere e ha dato i risultati che speravamo. Quindi replichiamo anche quest'anno, grazie alla passione, come giustamente hai detto te, che l'associazione METS ci sta mettendo oltre la grande capacità organizzativa, perché c'è da sottolineare anche questo aspetto, che hanno dato prova, erano dei neofiti nell'organizzazione delle mostre come associazione, ma hanno dato prova di una grande capacità organizzativa, ovviamente anche con la collaborazione della Fondazione Castello e del Comune di Novara, ma il grosso ovviamente l'hanno fatto sicuramente loro. Quest'anno ci saranno anche dei quadri, delle opere che noi trasferiremo dalla Galleria Giannoni, tre opere mi sembra, tre opere che andranno a, diciamo così, rimpolpare l'offerta culturale di questa mostra. Quindi un buon connubio che ha dato dei buoni risultati e che speriamo che continui a darli. Inizia fra una settimana la mostra. Cittadini novaresi e non solo, che avranno modo anche di approfittare dei tanti mesi di esposizione proprio per imparare e acculturarsi su ogni sezione, magari mirare proprio le visite in modo specifico. Identità culturale che vi aspettavate l'anno scorso già dai dati e da questi risultati? Diciamo che la mostra, la qualità della mostra sicuramente meritava un grande successo. C'è stato fatto un grandissimo sforzo per organizzare una mostra di altissimo livello, di altissimo profilo, con opere di grandissima qualità, dei più grandi maestri dell'Ottocento italiano, curata da storici di alto profilo. Abbiamo coinvolto un comitato scientifico ristretto, ma come dicevo di alto profilo. C'erano Sergio Rebora e Elisabetta Taudacher, erano i curatori del comitato scientifico, facevano parte anche Fernando Mazzocca e Luisa Martorelli, oltre ad Aurora Scotti Tosini, molto nota qua nella zona, essendo l'esperta di riferimento di Gisa Pepellizza da Volpedo. Quindi una mostra di grande qualità che, ripeto, meritava un grande successo, però era una scommessa, era una scommessa perché la città si apprestava a offrire il secondo evento importante, era partita con la mostra di Sgarbi, ma è una città che fino al momento in cui fu inaugurato come spazio espositivo il castello con la mostra di Sgarbi era abbastanza avulsa dal circuito delle grandi mostre, rispetto ad altre città di provincia, come per esempio Brescia, Treviso, che sono solite offrire eventi di livello. In più, l'anno scorso, diciamo che non siamo stati fortunati dal punto di vista della concorrenza, perché avevamo la grandissima mostra straordinaria sul romanticismo organizzata dalle Gallerie d'Italia con opere provenienti da tutto il mondo, 200 opere, una cosa veramente imponente. A Torino, alla GAM di Torino, la mostra è sui macchiaioli e a Lecco un'altra mostra generica sulla pittura dell'Ottocento e quindi farsi largo in questo marasma di mostre non è stato ovviamente semplice per chi organizzava la prima e quindi il successo è stato doppio per noi, perché è andato oltre i nostri obiettivi e quindi ne siamo stati particolarmente soddisfatti. Una scommessa comunque vinta perché i dati, lo abbiamo detto e lo avete sentito, parlano chiaro e da allora vi siete messi subito al lavoro per questa. Sì, non contenti, diciamo che ovviamente noi avevamo, quando siamo partiti, la prima mostra doveva essere una mostra che desse una panoramica sul secondo Ottocento italiano, ma l'idea comunque dentro di noi era poi di offrire delle mostre tematiche più specifiche. Quindi avevamo già in testa un progetto, lo abbiamo ancora anche magari per qualche cos'altro. Però prima bisognava attendere il riscontro del pubblico. Il riscontro del pubblico c'è stato, diciamo che nei primi mesi del 2019 si è capito che si andava incontro a un successo e quindi abbiamo cominciato a parlare di eventuali progetti futuri con il Comune e sulle ali dell'entusiasmo comune tra ente municipali, la Fondazione Castello si è deciso di proseguire subito con una mostra già quest'anno. E allora ci è parso che forse il tema del divisionismo fosse quello più adatto. È un movimento che ha un grande appello internazionale. Poi cadeva nel 2019 il centesimo anniversario della morte di Angelo Morbelli, che è uno degli esponenti principali del divisionismo italiano, molto noto e apprezzato e conosciuto dalle nostre parti. i 120 anni dalla morte di Segantini nel 1899, il 1919-1920 che sono un po' la fine dell'epoca del divisionismo e quindi ci sembrava proprio la scelta migliore. Tra l'altro quando, dopo averne parlato col Comune di pensare a una nuova mostra, ci troviamo noi componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione nella sede ufficiosa delle riunioni del nostro Consiglio al Swiss Corner di Milano, campeggiavano sulle pareti del locale dove adesso tra l'altro campeggiano invece le immagini della mostra sul divisionismo, campeggiavano le immagini di alcuni quadri di Segantini e quindi fu un segno del destino. Insomma, tra anniversari e segni era il momento giusto. Sindaco, l'invito proprio ai cittadini per approfittare di questa nuova opportunità e per godere di questo percorso ricco e affascinante la cultura deve essere anche questo, un motore per l'economia del territorio. Certamente sì. Quello che spero io è che ci siano ancora più visitatori novaresi, ovviamente, tenendo buoni quelli dell'anno scorso che sono arrivati dalla Lombardia, da altre regioni, magari anche incrementandoli, ma che ci sia anche un maggiore coinvolgimento della città da un punto di vista, diciamo, della visitabilità della mostra. Noi, ovviamente, attraverso anche l'associazione Mezza, stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative anche collaterali, di supporto alla mostra stessa, accordi anche magari con le associazioni dei commercianti, perché è ovvio che più gente viene a Novara a visitare la mostra, più ci sono occasioni anche per chi ha un negozio, un ristorante, un bar, di poter sfruttare da un punto di vista commerciale anche questa situazione. Non ci fermiamo comunque qua. Il progetto è quello non soltanto di far girare e far vivere le stanze del castello con queste offerte culturali, il progetto è anche quello di rafforzare l'offerta turistica che la città può dare, perché noi abbiamo una bella città, che però molto spesso si piange addosso, non sa valorizzarsi adeguatamente, ha dei monumenti simbolo che andrebbero adeguatamente sfruttati, tra virgolette, passatemi il termine, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista turistico, prima fra tutte la nostra cupola che stiamo guardando in questo momento. Esattamente, quindi perfetto. C'è stato un tempismo straordinario, anche non voluto. Sulla cupola mi permetto di dire che il progetto che abbiamo in mente noi e che è già in fase avanzata dovrebbe portare nella nostra città potenzialmente decine di migliaia di visitatori che potranno andarla a visitare fino a 98 metri e mezzo, cosa che adesso non è possibile, con un'offerta, diciamo così, un servizio turistico dedicato specializzato. Questa cosa deve fare da volano per tutte le bellezze culturali e artistiche della nostra città, perché è evidente che se una persona arriva da fuori Novara o dall'estero addirittura per poter visitare la nostra cupola e arrivare fino a 98 metri e mezzo, poi quando scende dalla cupola potrà visitare anche i nostri musei diocesani, la nostra galleria Giannoni sulla quale abbiamo un progetto in corso su un suo restyling complessivo. Abbiamo la collezione Cassietti, l'avvocato Cassietti ha donato alla città delle opere straordinarie, anche queste qui dell'Ottocento, che noi vogliamo valorizzare, perché il lascito ci chiede di valorizzarle, quindi organizzeremo delle mostre dedicate alla collezione dell'avvocato Cassietti. Quindi ci sono tutte le condizioni sulle quali stiamo lavorando, abbiamo già iniziato a lavorare, per rendere la nostra città sempre più attraente, sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista turistico. E loro ci hanno dato una grossa mano attraverso l'organizzazione di queste mostre straordinarie. E il lavoro di squadra darà sicuramente frutti importanti, quindi grazie per questa parte, per essere stato con noi al sindaco di Novara, Alessandro Cannelli. Tacchini resta con me e anche voi a tra poco, dopo la pubblicità. Buonasera. 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 Buonasera.